E' successo alla provincia di Bari, ente ormai agli sgoccioli, che cesserà le proprie funzioni il 31 dicembre prossimo. Nell'ente di Via Spalato si sono svolte le prove orali e per titoli, prima che il presidente Schittulli ceda definitivamente il testimone al presidente della città metropolitana e abbandoni il ponte di comando di un ente inutile. Tutto questo in attesa che sul fronte politico si sfogli la margherita sulla sua candidatura alla regione. Venerdì scorso i concorrenti hanno superato brillantemente le prove per un concorso interno, tutti promossi compresa la moglie del vice coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Antonio Distaso, in servizio presso l'avvocatura della provincia di Bari. La professionista, della quale sono fuori discussione, doti e capacità, attraverso la mobilità interna ha avuto la possibilità di fare carriera, alzando l'asticella di una busta paga che diventerà ora più pesante, in ragione delle parcelle legali previste per i professionisti che lavorano nella pubblica amministrazione. Un bel salto di qualità anche se il dubbio, quello che fa storcere il naso, riguarda i tempi e le relazioni politiche tra Schittulli e Forza Italia, il cui negoziato prosegue ad oltranza, ma che potrebbe veder cadere le riserve nei confronti dell'oncologo barese e delle primarie e far chiudere così non uno, ma tutti e due gli occhi. Grazie